Appariranno dei droidi a ondate In particolare c'è il Grace Che è quello a cui fare più attenzione Perché cura il boss In story mode fondamentalmente si può uccidere Senza problemi alcuni Poi ci sono altre due tipologie di add Ma fondamentalmente di unice a cui prestare Altra attenzione Sono i Justice che hanno uno scudo Che vi riflette il danno A meno che non siano stommati Diciamo che il boss ha un debuff Che adesso non vedete Ma praticamente builda delle stack Se arriva a 10 va male Poi in story mode no Ma se ne frega Una parola Scusami cosa? Una difensiva quando arriva a 10 Magari buttiamocela lo stesso In realtà purtroppo è danno interno Per cui le difensive non servono Se arriva a 9 stack Facciamo passare una cura Perché la cura li toglie le stack Quindi non dovrebbe succedere Che arrivino a 9 stack Però non si sa mai E comunque appunto Anche il danno che fa Una volta è arrivato a 10 Si può sopravvivere In story mode dovrebbe essere Basta praticamente Una domanda Ma il Justice Dello stun Io lo posso stunnare Certo Con caccia un missile No 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 Con caccia un missile Se ben ricordo Lo stun lungo Devi usare l'hard stun Quello da 4 secondi Per intenderci Io non ce l'ho Così Si ce l'hai Tutte le classi Hanno Lo stun In breve Cos'è un mercenario? Si Cos'è? Cryo grenade forse? Electro dart Electro dart Electro grenade è sul comando Allora me la metto in barra Electro dart Perché non ce l'ho Qualcuno avrebbe una steam a cura sì Uno steam a cura sì no Ce l'ho riutilizzabile io Sì 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 No steam Quelle gialle sono Sì Sì Accuracy 240 Critica al 99 880 minuti Qua Mi vedete Sì aspetta Trash bot Sì Aspetta una Pronto Io non ancora Se vogliamo fare i raffinati Teniamo i raid buff Per la burn phase Che fondamentalmente è sotto il 30% Ok In quana parte di migliorare gli add E fare il boss Tranne i rage Di beh qual è il tuo personaggio? E i tank Ah per dealer potete clonisare Tra di fondo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Potete usare i redbuff e appunto d'ora in poi ignorate pure gli add, fate solo i grays. Ecco, guarda, ce ne sono due. Mi sa che i guardian sono su un healer, ma vabbè. Le voilà. Grazie. Grazie. Grazie.